Primo, direi, la Meloni è più sola, cioè la scommessa che lei pensava di fare, di essere determinante per gli equilibri della nuova Europa, non è andata a dama. Il che non significa che la partita sia chiusa però, attenzione, perché è vero che l'accordo c'è, è stato fatto, è un accordo secondo me un po' frettoloso, questo accordo si chiama Francia, si chiama elezioni francesi del 30 e del 7 e quindi c'è la fretta di chiudere questa cosa prima che a Macron arrivi presumibilmente una notizia pessima, cioè di dover convivere con Bardellà per gli anni che verranno, Bardellà perché non lo sapesse è il frontrunner della destra lepenista accreditato nei sondaggi, è una plausibile vittoria elettorale alle legislative che si stanno per fare. Questo però secondo me comporta anche qualche considerazione sull'Europa che si sta facendo. Mi domando, ha senso questa dimensione di torre d'avorio in cui si chiude dentro l'Europa prescindendo, lo so che ci sono i numeri, ma prescindendo quasi completamente, quasi ideologicamente dai risultati delle elezioni europee nei due più grandi paesi, cioè in Francia e in Germania. In Francia Macron è in una situazione molto complicata, in Germania Scholz ha preso una botta terribile con purtroppo l'avanzata dei similnazisti di Alternative for Deutschland. Quindi è come dire una corsa dell'Europa a precedere però la sostanza di quello che in parte dice la gente in Europa. Io temo molto questo liato, questa divaricazione. No, 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 volevo precisare che naturalmente si tratta dell'accordo a livello dei governi e che poi c'è la partita parlamentare. Infatti è la seconda parte che lo stavo per dire. I numeri dicono che i popolari, i socialisti e i liberali hanno 399 voti, leggo, che però la maggioranza è 361 e che però devi considerare un 10-15% fisiologico di franchi tiratori. Quindi non ci siamo completamente alla von der Leyen, non è al sicuro nel voto all'Europarlamento. Cosa può fare per metterci al sicuro? Aprire ai Verdi di qua o alla Meloni di là o a tutti e due o ai Verdi è un po' sotto banco alla Meloni, può darsi. I Verdi chiedono cose, chiedono che il Green Deal continui, venga rafforzato, cosa non completamente in linea con quello che sembra dovremmo fare l'Europa rispetto agli armamenti, rispetto a una serie di scelte finanziarie che verranno. La Meloni cosa chiede? Probabilmente chiede ciò che sa di poter già ottenere, cioè una commissione. Un commissario di... Un commissario che tanto le darebbero comunque per poter dire di aver ottenuto un commissario. Quindi io credo che probabilmente strapperà in Consiglio e voterà in Europarlamento dopo essersi messa d'accordo con la von der Leyen. Stefano Feltri, sei d'accordo con questa lettura? E poi mi sembra ci sia la questione politica di fondo. Un patto di questo tipo che esclude la destra, tradisce in qualche modo il risultato elettorale?